DJ chiama Italia! DJ chiama Italia! DJ chiama Italia! Niente, stavo raccontando un po' di là ai ragazzi in redazione che giovedì scorso ho visto la prima puntata della nuova serie di CSI Las Vegas, quella originale insomma su Sky e per darvi l'idea di come sia difficile combattere contro certe corazzate, tu hai voglia di fare i RIS di Parma con i mezzi che abbiamo a disposizione noi italiani, no? quando tu fai un programma televisivo e il tuo mercato non è neanche gli Stati Uniti che già sarebbero grandi sei volte l'Italia ma è il mondo, ovviamente hai un potenziale economico certo, è un po' come fare il disco degli U2 e il disco di Luca Dirisio, hai voglia, certo, i mezzi sono un po' impari certo, poi magari Luca e Paul non sono esattamente la stessa cosa, Paul è buono, capito? beh per dire, CSI era ambientato nel backstage del Cirque du Soleil a Las Vegas Urca, Urca! e già questo dava un chiedi importante cioè, il Cirque du Soleil non ti, il backstage del Cirque du Soleil non te lo fanno vedere, ma neanche... e ora lì faceva vedere le macchine come funzionavano, alcune macchine, poi a un certo punto quello grosso che cambia sempre pettinatura, non so come si chiami e quella che parla tutta così, Catherine, vanno a bere qualcosa in un bar e sul palchetto del bar a cantare c'era John Mayer, quello appena ascoltato che cantava questa canzone, cioè UX non è World to Change, e niente male da noi al massimo vanno in un'osteria, e magari c'è Italtonica magari c'è Luca Dirisio sul palco, per dire allora torniamo un po' all'attualità, visto che abbiamo parlato di attualità privata, parliamo di attualità pubblica, di quello che accade in Italia in queste ore insomma degli argomenti di cui parlano i quotidiani, abbiamo spiegato sul nostro tavolino tutte le prime pagine il Corriere della Sera la prima pagina, Alex Farolfi, Simone di DJ TV ma abbiamo già parlato e Luca Ambrosini segue a pagina 48 degli spettacoli che vanno a vedere in latino tu fai dentro ok beh oggi alle 16 per esempio c'è il voto sulla fiducia, sul rifinanziamento della missione italiana in Afghanistan con le contestazioni che avete visto ieri nei confronti di Bertinotti speriamo che non facciano casini ci sono casini alla camera speriamo che casini non faccia casini oggi alle 4 al Senato c'è il voto appunto sul rifinanziamento, c'è il tentativo di sgambetto che è uno sport molto praticato qui in Italia una volta lo fa la destra o la sinistra, quando puoi toccare la sinistra e l'altra parte lo fa senti, dovendo come durante le partite di Sky scommettere, schiacciando il pallino verde tu scommetteresti che oggi pomeriggio il governo cade o non cade? no, non credo cadrà non credo cadrà anche perché è comunque interesse anche di Berlusconi di non fare una brutta figura nei confronti dei suoi amici americani però ho parlato ieri con gli americani infatti come hai visto non vota contro ma si astiene perché è già un passo più avanti alle 11 sempre in tema di cose che accadono questa mattina c'è la prima gara veramente importante dei mondiali di nuoto magari poi la seguiamo insieme, i 200 stile libero la sfida fra Rosolino, Michael Phelps e VDH come lo chiamano loro VDH Valdon Hoogban, questo votatore olandese poi c'è uno speciale parrucchieri, vedevo su entrambi i quotidiani sì, speciale parrucchieri, non l'ho visto speciale parrucchieri, Coppola e Lafranzoni Coppola e Lafranzoni intendi dire Lafranzoni che si è ripresentata con una pettinatura nuova di Zecca sempre frangia, frangia fine commento sulla franzoni perché tutto il resto veramente non si può dire che questa roba del mestolo non mi ha fatto dormire questa notte no 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 certo ogni volta cambiano l'arma ma comunque noi continuiamo a non dormire che sia un ferro da stiro, uno scarpone o un mestolo brutto brutto, per fortuna possiamo ironizzare su Coppola perché il suo tentativo di suicidio in realtà era un tentativo di richiamare l'attenzione sì sì sì, io sto qua in galera e fuori se stanno a ruba tutto fatemi un scinghia, faccio più che dico che è successo? che si è leggermente tagliato un polso tagliato un polso sì, un po' per richiamare perché secondo me tutti quanti i detenuti in carcere dicevano e tagliali, e tagliali, e tagliali, e tagliali dicevano i capelli Coppola ecco, non i polsi ecco ecco, purello dai anche lui e poi c'è questa cosa di potenza sì, potenza, potenza ho visto, ho visto, è incredibile potenza ormai è il privé d'Italia incredibile, è un reality secondo me l'ha acquistato Magnolia di Giorgio Goy io ho già stato a potenza diverse volte in occasione di serate e devo dire che già comunque sì 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 c'è l'acqua buona sì come si dice c'è l'acqua buona quando vedi tutti quei bei sorrisi bianchi quando vai a fare una serata vedi queste ragazze bellissime io mi ricordo molte ragazze molto carine però in aggiunta a quelle che già c'hanno ci sono quelle di Milano tutto il privé adesso tutto il privé tutto l'Hollywood si è trasferito diciamo un po' a potenza fantastico e come dicevo è un reality il tribunale dei famosi fanno questo reality qua dove c'era un po' di invidia da parte della tu vuoi dire che in Italia esiste una regione che si chiama Basilicata? sì esiste beh non soltanto esiste sta diventando un po' la regione capitale insomma passate il termine ho capito cosa alludi perché prima c'era Matera l'unica altra città della regione Caputmundi visto che ci fanno i film ci hanno fatto la passione di Cristo la passione di Cristo migliaia di comparse tutto il mondo che ha visto i sassi in televisione in cinema Mel Gibson lì no insomma e a potenza stavano un po' soffrendo rosicavano come si dice rosicavano per fortuna è arrivato Woodcock sì che con il suo nome ha dato anche una così una ventata di internazionalità al paese al punto tale che pare vogliono cambiare anche il nome del paese il nome della città la città si chiamerà The Power The Power comunque pieno di fighe pazzesco c'è Fernanda Alessa persino più bella a potenza è vero a potenza è vero chi è che c'era ieri anche? vabbè l'ha lecciso in quel caso il tuo teorema un po' decade però però insomma DJ chiama Italia DJ chiama Italia DJ chiama Italia ahaha ahaha Grazie a tutti.